Chissà se esiste un modo per misurare la fede. Il Vangelo di questa domenica è già un piccolo termometro per capire come viviamo la nostra fede. Allora, pronti a misurarci un po' la fede? Bene, partiamo. La parabola che ci propone Gesù questa domenica è quella di un uomo, un uomo ricco, un imprenditore, un manager del tempo di Gesù, che dopo tanti sforzi lavorativi ha un ottimo raccolto, ma vuole ancora di più, non gli basta mai, è un uomo ripiegato su se stesso. Lui sa tutto della vita e può anche insegnarlo agli altri, sa come gestire la sua vita, sa come gestire le sue ricchezze, sa come insegnare questo agli altri. Il Vangelo di oggi ha dei termini molto particolari. Questo uomo è sempre pronto a dire io, 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 io demolirò, io costruirò, io raccoglierò. Usa sempre l'aggettivo possessivo mio. Parafrasando con simpatia potremmo dire che potrebbe essere un ottimo testimonial della famosa pubblicità che dice tutto il gira intorno a me. In questa logica del mondo questo uomo pensa di governare anche il tempo e la sua vita, ma il tempo e la vita non può gestirla assolutamente, anche se ha soldi, successo e ha accumulato tantissimo. La parabola di questa domenica è quanto mai attuale e tanto preziosa nel nostro secolo, nei nostri anni. Un secolo segnato dal profitto, dalle performance, dall'accumulare ricchezza, dall'avere sempre di più. Quest'uomo, concentrandosi solo su se stesso, sul suo lavoro e sull'accumulare, ha fatto tabula rasa attorno a lui. Non ha più relazioni. L'unica sua preoccupazione è accumulare per poi godersi la vita, non vedendo che vive una solitudine devastante. Infatti nel Vangelo di oggi non viene menzionata una moglie, non vengono menzionati figli, non vengono menzionati gli amici, cioè non ha costruito nulla. Conoscete qualcuno che mette al primo posto il lavoro, i soldi, il successo? Conoscete qualcuno che a causa di questo orientamento di vita non ha famiglia e non ha relazioni? Conoscete qualcuno che si fida quasi unicamente del suo io e praticamente nulla di Dio? Allora si può dire che il tema di questa domenica è il rapporto che ognuno di noi ha rispetto a ciò che ha. E non è questione di avere tanti o pochi soldi, ma è come si vivono. Ci possono essere dei poveri che sono attaccati morbosamente a quel poco che hanno e ci possono essere invece dei poveri che donano anche quel poco e d'altro canto ci possono essere dei ricchi che vogliono sempre di più, che sono estremamente cinici verso il mondo che li circonda e ci possono essere persone molto benestanti che invece usano la loro ricchezza per aiutare in modo silenzioso il prossimo. Sia ben chiaro che Gesù non parla mai in modo negativo verso coloro che hanno delle ricchezze. Pensiamo ad alcuni suoi amici, Giuseppe d'Arimatea, colui che le ha ceduto, donato la tomba nel momento in cui è morto. Ma pensiamo anche a Matteo, San Matteo, che lui chiama quando lavorava al banco delle imposte e sicuramente era una persona anche poco etica nel suo lavoro. Ma pensiamo anche a Zaccheo, che lui si autoinvita a casa sua. Allora è solo un'ideologia far passare Gesù come uno che è contro la ricchezza. Chiaramente Gesù, nel Vangelo di oggi in modo particolare, ci fa comprendere che è pericolosissimo orientare la vita solo verso la ricchezza, ovvero nel far diventare un idolo il lavoro, la produzione, il profitto, i soldi. Ricordiamoci bene che la ricchezza promette ciò che non può mantenere. Ci illude che i soldi potranno colmare i vuoti e gli ostacoli della vita. Qui non viene assolutamente contestata la ricchezza. Anzi, Gesù vuole darci delle piste per vivere ciò che abbiamo. E potremmo racchiuderle in tre elementi. Il primo, che non bisogna far diventare un idolo ciò che noi possediamo e soprattutto ciò che facciamo come il lavoro. Secondo punto, che la provvidenza è più alta di qualsiasi sforzo umano. E un terzo punto, che dobbiamo vedere ciò che abbiamo come amministratore della provvidenza, cioè che abbiamo qualcosa che ci responsabilizza verso il prossimo. Gesù ci vuole far capire che non ci si può basare solo sui soldi, solo sul lavoro, solo su ciò che noi accumuliamo. Alla fine la vita non dipende da ciò che si possiede, ma da ciò che si dona. Veremo ricordati per l'amore e non per i soldi. Allora dobbiamo riprendere in mano la realtà. Il Vangelo di questa domenica ci deve portare con i piedi per terra veramente, dissociandoci da una cultura del profitto, dell'accumulare, della ricchezza. Dobbiamo vivere i nostri giorni puntando su ciò che abbiamo veramente a cuore, ovvero mettere le nostre forze nella vera ricchezza, che è custodire ciò che abbiamo costruito come relazioni familiari e crescere nella ricchezza della fede. È difficile, ma dobbiamo andare controcorrente rispetto a oggi. Dobbiamo riprendere la saggezza del vivere la ricchezza dei valori. Basta farci guidare da scelte che sembrano che ci garantiscano qualcosa e invece ci rubano il tempo e le relazioni. Ci sono persone che dopo molti anni spesi solo sul lavoro o solo nell'accumulare, si girano indietro e vedono che non hanno raccolto nulla. Allora, come sintesi, vuoi veramente vivere una vita piena rispetto agli anni che il Signore ti concederà? Allora, non accumulare, ma vivi quotidianamente ciò che hai in pienezza. E potremmo vivere la frase che il Signore dice nel Vangelo di oggi. Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che ha.